Grazie a tutti. 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 Sì, per esempio, io ho nato per Cisaio, non posso camminare. Non posso. Io ho nato adesso, 30 o 40 minuti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tu parli con il dottore e tu vuoi Cisaio? No. No, hanno deciso loro. Perché tu l'ha detto no, tu non fai? No, mamma ha detto Cisaio, tu parli loro, io non fai. Hanno deciso loro in realtà perché il bambino è piccolo sulla pancia può soffrire quando fai naturale. Allora è meglio gelare, allora è meglio gelare, amide. Capito. Capito. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a Dio, tu stai bene? Escile, tu non piagge. No, mamma. No, mamma. No, mamma. Dopo a posto. Capito, amore? Dopo tu stai bene. Sì, lo so. Era ieri che mi fa tutto male qui. Sì. E non mi danno niente. Niente una crema, niente da mettere. Sì. No, mamma casutta. Sì. lo葉 è parla a due ore 9 dolei, quindi un po' spino. Io ho andato a due ore. Erav claro, con di nuovo proiettigia problems. Noi non lo spino. Noi non ho chissuto. Guardo senza folkare. La mia musica è somewhat suore. Sì, come bebi. Non lo so, non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so, non lo so. Non lo so. Sì, sì, sì. Sì, non è vero, non è vero, non è vero. Grazie.